L'Orsa Amarena è stata uccisa ieri sera fucilate da un allevatore alla periferia di San Benedetto dei Marzi, fuori dal parco e dall'area contigua. L'Orsa era molto conosciuta per le sue incursioni amichevoli e per essere la madre nella prima cucciolata di Juan Carrito. L'uomo è stato identificato dai guardia parco e poi sottoposto a rilievi a cura dei carabinieri della locale stazione. Sul posto sono prontamente intervenute anche le guardie del parco, vista l'area in cui Amarena era scesa con i suoi cuccioli. Diciamo che abbiamo appreso questa bruttissima notizia della morte dell'Orsa Amarena, simbolo del nostro Abruzzo, simbolo del parco nazionale, animale specie protetta a cui credo tutti siano affezionati. L'Orsa girava con i propri cuccioli da due notti all'interno della nostra comunità. Diversi cittadini hanno segnalato anche con video ripresi direttamente da loro la presenza dell'animale che ovviamente è entrato dentro diverse proprietà private e in alcuni casi saccheggiando anche pollai, stalle e recando danno. L'Orso per fame compie anche questo. È troppo facile magari dare giudizi affrettati sull'autore di questo gesto che di per sé, ripeto, va condannato. Magari si potevano adottare diverse soluzioni, sparare in aria, telefonare a qualche autorità, a qualche guardia parco o altro e poi invece all'improvviso si è preferito fare altro. Però quello che voglio sottolineare è che ci si deve trovare di fronte a queste situazioni perché non è facile dare un giudizio stando all'esterno. L'Orso è entrato dentro una proprietà privata e onestamente cosa stava facendo? Sinceramente soltanto chi ha vissuto quell'esperienza ce lo potrà raccontare. Conosco bene l'autore del gesto, è una persona misurata, una persona ponderata che è stata sempre all'interno delle righe e per poter arrivare a fare un gesto del genere probabilmente si era trovato di fronte ad una situazione sicuramente non facile da gestire. attendiamo con fiducia l'esito delle indagini che il Pubblico Ministero sta portando avanti. Purtroppo pure io sono stato carneggiato dalle orse circa due mesi fa che mi sono mangiato 50 galline. Purtroppo io con quell'attività che facevo, sono un pensionato di 500 euro al mese. Purtroppo dispiace quando succede questa cosa, però alle volte si arriva pure all'esasperazione. bisogna proteggere gli animali ma proteggere anche le persone.